In manette il quarto componente della gang che gestiva il traffico di eroina tra Vittoria e il capologo siciliano. Si tratta di Mohamed Mohmoud, tunisino di 47 anni. È stato rintracciato ieri dalla squadra mobile della Polizia di Stato a Palermo nell'ambito dell'operazione Maghreb 2013. Mohmoud è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Raguse, il dottor Giovanni Giampiccolo, su richiesta del sostituto procuratore del Tribunale Ibleo, la dottoressa Federica Messina, nei confronti di sette tunisini ritenuti responsabili di aver acquisito, trasportato e spacciato, particolarmente nel comprensore di Vittoria, ma anche nel resto della provincia di Ragusa, sostanza stupefacente del tipo eroina con continui contatti con il capologo della regione siciliana. Mohmoud lo scorso 4 novembre era riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce, solo tre dei sette tunisini facente parte della gang che gestiva il traffico di stupefacenti furono arrestati. Ieri il quarto uomo è stato individuato a Palermo mentre era all'interno del porto e in procinto di imbarcarsi alla volta della Tunisia. Mohmoud, rispetto ai tre arrestati, aveva un ruolo ben diverso all'interno del gruppo, infatti era colui che aveva il compito di approvvigionare di eroine vari corriedi che giungevano da Vittoria. La vita di Rito è stata associata presso la casa circonderale Pigliarelli di Palermo. La polizia intanto è sulle tracce degli ultimi destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare sfuggiti il 4 novembre scorso.